Il sindaco di Nuovo Andrea Sodoggi ha partecipato a Roma al comitato direttivo del Lanci, allargato ai sindaci dei capologi di provincia, che aveva all'ordine del giorno il blocco del bando delle periferie. Da notizia con una nota l'amministrazione comunale, il presidente del Lanci Antonio De Caro ha informato i sindaci sull'esito degli incontri avuti nelle scorse settimane col governo sull'avvertenza legata al piano nazionale delle periferie, che finanziava oltre 300 città, tra cui il capologo Barbaricino. Questo ha lo scopo di rilanciare e cambiare il volto alle città, partendo dalle periferie, che solitamente rappresentano le aree più degradate. Un grande progetto, prosegue la nota, caduto sotto la scura del decreto 1000 proroghe, varato dall'attuale governo, e che ha deciso di tagliare drasticamente i fondi, confermando solo i primi 24 progetti della graduatoria. De Caro ha riferito dell'ultimo incontro col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha detto sia impegnato ufficialmente col presidente Lanci davanti a 19 sindaci di tutti gli schieramenti politici, a promulgare un decreto che annulli l'emendamento contenuto nel 1000 proroghe, che ha cancellato i fondi per le periferie. Questo avverrà, ha detto De Caro, entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 1000 proroghe. Già domani, in conferenza unificata, ci sarà l'intesa sul recupero di una parte importante dei finanziamenti del bando delle periferie, cancellati per un ammontare di 800 milioni di euro la metà dell'intera somma stanziata. Un primo passo in avanti, ha commentato il sindaco di Nuo Andrea Sud, vigileremo attentamente affinché le parole vengano seguite dai fatti. Potremmo dire che la trattativa è da aver andata bene solo quando vedremo i risultati finali. Per ora registriamo un ottimo risultato, conseguito dal Lanci e dal suo presidente De Caro. Il presidente Conte, dal canto suo, ha preso un grande impegno e noi da uomini delle istituzioni vogliamo credere alla sua parola. Se però non seguiranno i fatti, siamo pronti a dare battaglia insieme con tutti gli altri sindaci.